Quando vedo l'albero è lontano, capisco che è lontano. Venerdì scorso, ai musei civici di Palazzo Mosca, la sezione di Pesero Urbino dell'Unione Italiana Cechia e Povedenti Ollus ha presentato il basso rilievo prospettico tattile dell'incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini che documenta la scena principale e 11 disegni a rilievo con le descrizioni in braille e a carattere ingrandito. L'iniziativa che rende la cultura della città ancora più accessibile rappresenta la fase conclusiva del progetto denominato Musei a Contatto. Abbiamo ottenuto il sostegno della Chiesa Valdese con i fondi dell'8x1000 che ha sposato questo progetto che è durato un anno. È un'opera molto complessa perché quando si deve tradurre un'opera pittorica in un'opera tattile concorrono veramente tanti fattori, non solo lo scultore che la realizza manualmente ma anche tutta una serie di componenti educative, strutturali, tifologiche che devono contribuire a realizzare un'opera che sia veramente fruibile e tattilmente ed è fruibile e tattilmente anche da chi vede e quindi l'assurdo, che non è assurdo, è che un'opera fruibile da persone non vedenti è ancora più fruibile e più piacevole da parte delle persone che vedono. Quindi questo è il regalo dell'Unione Italiana Cecchia e Ipovedenti, la sezione di Pesaro Urbino alla città di Pesaro, capitale della cultura 2024. Assessore, l'importanza di questa opera per la città ma anche per la regione? Sì, sicuramente oggi è una giornata importante, tra l'altro la mia prima uscita come assessore alla cultura e alle pari opportunità in maniera particolare nella città di Pesaro, una giornata importante perché viene consegnata non solo nell'ambito dei musei del tatto ma proprio alla città, una pala che consentirà praticamente anche alle persone ipovedenti e non vedenti di poter fruire di una delle bellezze artistiche che la città di Pesaro ha, che è appunto la pala del Bellini e questo tutto va nella direzione di rendere più inclusive e più accessibili appunto anche le bellezze al fine del superamento delle barriere architettoniche.